Ciao, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Jessica e sono una docente di lingua e letteratura tedesca. Oggi siamo arrivati alla lezione 14 del corso di tedesco intermedio B1. Sono molto contenta di essere riuscita finalmente a trovare il tempo e la calma per poter continuare il mio corso. Bene, che cosa faremo insieme oggi? Come ci dice il titolo di questa videolezione, leggeremo, sì, insieme il terzo testo. Ma oggi ho scelto per voi una cosa un pochino particolare e un pochino più in su di livello, perché insomma ormai stiamo procedendo. Si tratta di un testo di storia preso da un libro di letteratura tedesca, tra l'altro un libro ottimo, Lorelei della Löscher, che ho sempre usato nella scuola superiore con i miei ragazzi. Lascio il link qui sotto in descrizione. Andiamo a vedere questo testo. Eccolo qui, Context Geschichte, quindi contesto, storia. Essendo appunto un testo che tratta, racconta una parte storica, vedremo un larchissimo uso del Pereteritum, che abbiamo visto anche nelle precedenti lezioni, perché è proprio il tempo che si utilizza per i testi di questo tipo. Abbiamo visto che il Perfekt è più utilizzato invece nel linguaggio parlato, nello scritto, soprattutto appunto quando è un saggio, quando è un libro di questo genere, dove si parla della letteratura e della storia, si utilizza maggiormente, non esclusivamente, ma maggiormente questo tempo. E poi vedremo un pochino di costruzioni più difficili delle storie che leggiamo di solito, dei testi che leggiamo di solito. Comunque vediamo tutto insieme. I germani sono, possiamo anche dire il popolo germanico, sono la popolazione, eccola qui, originaria, Deutschlands della Germania. Sie waren kein einheitliches Volk, sondern es gab zahlreiche germanische stämme. Loro? Allora, qui abbiamo un articolo negativo. Kein einheitliches, quindi das Volk. Quindi in italiano possiamo tradurlo con loro non erano un popolo unitario, bensì c'erano, ecco qui che abbiamo un preterito di es gibt. Abbiamo visto più volte l'utilizzo di es gibt, più accusativo. Qui è un preterito, un passato, es gab. Allora, mentre in italiano c'erano, c'erano, ci sono, c'è. In tedesco è sempre alla terza persona singolare e anche qui abbiamo un preterito alla terza persona singolare. Quindi, bensì, c'erano numerose, da stamm, da stamm, di stemme, tribù germaniche. Um 2000 vor Christus lag ihre heimat in Nord-Europa. Intorno, um, all'anno 2000 vor, avanti, Cristo, la loro patria, questo è il verbo liegen, si trovava, lag preterito, si trovava nell'Europa del Nord. Zur Römerzeit lebten sie in der, diciamolo, visto il contesto, Magna Germania, einem großen Gebiet östlich des Rheines, nördlich der Donau. Quindi, possiamo dire nel periodo romano, in l'epoca romana, vivevano, anche questo è un passato, lebten, vivevano nella Magna Germania, nel nome latino, no? Una vasta zona, Gebiet, das Gebiet, una vasta zona, una vasta regione, a est del Reno e a nord del Danubio. Allora, qui si mantiene einem, un dativo, perché rimane lo stato in luogo, ok? In der e quindi anche einem Rosen, ok? E questo qui, des eines und der Donau, è un genitivo. Il Reno, infatti, è der, il Danubio è di. Die eroberung durch die Römer fing im Jahr 12 vor Christus an. Ein Teil Germaniens wurde eine Provinz des Romischen Reiches. La conquista, attraverso i Romani, la conquista romana, dei Romani, fing an. Cominciò nell'anno, nell'anno 12 avanti Cristo. An fangen. Qui abbiamo un verbo separabile al preterito, si preterizza il verbo e si mette il prefisso in fondo. Già mi immagino qualche commentino sotto, non si dice preterizza. No ragazzi, voi non immaginate quanti commenti di questo tipo, ah non si dice questo, non si fa questo, ma su cose che sono palesemente battute. Vabbè, andiamo avanti. Una parte della, chiamata allora proprio Germania, divenne una provincia dell'impero romano. Anche questo è un genitivo, impero romano. Im Jahr 9, nach Christus, versuchten die Römer, auch das Territorium nordlichen des Rheins zu erobern, wurden aber im Teutoburger Wald von den Germanen geschlagen. Allora, nell'anno 9, nach Christus, quindi andiamo avanti, qui in italiano, dopo Cristo, i Romani versuchten, tentarono, che è questo un passato, di, allora abbiamo qui una costruzione zu erobern, di conquistare, ok, anche il territorio a nord del Reno. Vennero però geschlagen, il verbo è schlagen, sconfiggere a questo participio che fa geschlagen, vennero però sconfitti nella foresta di Teutoburgo, tra l'altro la battaglia nella foresta di Teutoburgo è proprio un fatto storico molto importante. Vennero, dai Germani. Der römische Kaiser Augustus entschied dann, dass die Grenzen des romischen Reiches an den Flüssen Rhein und Donau sein sollten. L'imperatore Kaiser Romano Augusto decise, quindi dopo, questo è il passato di entscheiden, decidere, dass, che, il verbo è qui in fondo, che i confini dell'impero romano, allora in italiano dovessero trovarsi, dovessero essere, sollten, sein, invece abbiamo un passato, dovessero trovarsi ai fiumi Reno e Danubio. I romani costruirono, passato di bauen, al confine meridionale, südlichen, confine del sud, confine meridionale, di grenze è il confine, an der, perché è uno stato in luogo, comunque di grenze, un grande. Questa parola potremmo tradurla con vallo per usare un termine storico. Il Limes, quindi costruirono dove, stato in luogo, che cosa accusativo. Es folgte eine Zeit des Friedens zwischen den beiden Völkern. Segui, es folgte, segui un periodo, un tempo di pace, ancora qui, di pace, tra i due popoli. Anche questo è uno stato in luogo zwischen den beiden Völkern. Die Völkerwanderung. Ungefähr im zweiten Jahrhundert nach Christus begann die Völkerwanderung, die bis in sechste Jahrhundert dauerte. La Migrazione, Wanderung, dei Popoli. Circa nel secondo secolo dopo Cristo iniziò, beginnen, begann, la. Allora, letteralmente è migrazione dei popoli, infatti ve l'ho tradotta così, però in italiano è, anzi sono, le invasioni barbariche. Interessante è questa prospettiva storica. Se lo cercate sul dizionario, molto spesso trovate entrambe le definizioni, la migrazione dei popoli o le invasioni barbariche, anzi, l'invasione barbarica. La quale, questo appunto, la quale durò, dauerte, durò fino al VI secolo. Auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen, verließen die germanischen Stämme ihre Gebiete und wanderten nach West und Südeuropa aus. Altra cosa, io nella vita ovviamente non leggo così. Lo leggo apposta scandendo molto bene, perché ho visto che vi è molto utile per capire soprattutto le parole composte da che cosa sono formate. Ok, quindi voglio tranquillizzare quelli che, ah no, ma tu leggi così. No, nella vita non leggo così. Ma sarebbe assurdo se io in questo momento facessi solo una dimostrazione di lettura, verrebbe meno lo scopo primario del mio canale. O no? Io voglio insegnarvi il tedesco, non voglio bullarmi delle mie conoscenze, perché non avrebbe senso. E trovo molto strano, usiamo strano, chi invece lo fa? Ok, quindi, alla ricerca, auf der Suche, alla ricerca, auf der Suche nach. Ok? Alla ricerca in italiano è di qualcosa, in tedesco auf der Suche nach plus dativ, perché nach vuole il dativo. Alla ricerca la ricerca di migliori, besseren, condizioni di vita, le tribù germaniche lasciarono, verlassen, i loro territori, le loro zone e il verbo è auswander, che significa emigrare, verbo separabile, e emigrarono, laus è qui, verso l'Europa occidentale e meridionale. sie kamen bis nach Rom und zu den Territorien südlich von Rom. Loro arrivarono, kommen, kamen fino a Roma e nei territori a sud di Roma. Im Laufe der Jahre kamen immer mehr Völker, nicht nur Germanen, ins Römische Gebiet. Nel corso degli anni, also im Laufe, nel corso, questo è un genitiv, der Jahre, vennero, arrivarono sempre più popoli, sempre più popolazioni, non solo i Germani, nel territorio romano. Attenzione a questo ins, che è sempre, l'abbiamo trovato in giro, è in plus das, ok? Ins. Die Goten und die Hunnen mit ihrem König. Allora, ecco, questa è una cosa interessante. Io ho sempre detto Attila, mi hanno detto che si dice Ottila. Qualcuno mi conferma questa cosa? Quindi da allora io dico sempre Ottila, però confermatemi che è giusto. Varen die Mächtigsten. I Goti e gli Unni, con il loro Re König, mit dativo, con il loro Re Ottila, erano i più potenti. Also Mächtig e Potente. Die Mächtigsten erano i più potenti. Zwischen dem 4. und dem 5. Jahrhundert nach Christus, warum nicht mehr fähig, den Invasionen zu widerstehen. Tra il quarto e il quinto secolo dopo Cristo, Roma non era più capace, non riusciva più a resistere, zu widerstehen alle invasioni. 476. Allora, perché qui c'è solo l'anno? L'ho detto già molte volte nei miei video. In tedesco non possiamo dire in, im e l'anno, ma diciamo im Jahr, oppure mettiamo, so che questo fa molto strano, solo l'anno, senza niente. Wurde Odoacre Herrführer der Ostgoten vom Römischen Senat zum König Italians Ernant. Ecco, in italiano lo possiamo dire. Nel 476, Odoacre, allora, possiamo dire Herr è esercito, comandante dell'esercito degli Ostrogoti, fu nominato dal senato romano re d'Italia. Ok? König Italians. Danach setzte er, Homulus Augustus, den letzten Weströmischen Kaiser ab. Dopodiché, attenzione che il verbo è questo, ab zetzen, e quindi, dopodiché, lui, Odoacre, ab zetzen, zetze, ab, depose Romulo Augusto, l'ultimo imperatore, direi l'ultimo imperatore romano d'Occidente. Das war das Ende des westlichen Römischen Reiches. Quella, questo, questo avvenimento, fu la fine dell'impero romano d'Occidente. Ok? Dai, non è stato così difficile. Abbiamo letto comunque un testo impegnativo perché parlava di storia, quindi, dai, non è andata male. Bene. Io spero davvero che questa lezione vi sia piaciuta, che abbia usato la mia domenica, la mia unica domenica libera, per preparare per voi un qualcosa di utile, spero anche piacevole. Bene. Spero davvero che non passi troppo tempo tra questa e la prossima lezione. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata, un buono studio, oggi, come sempre, bis bald!